Salve a tutti sono Marvin ed eccoci da una nuova puntata dedicata all'offerta della settimana di Bevingrosso.it, il primo sito online dove potete acquistare al miglior prezzo ed in piena sicurezza la vostra fornitura di bevande. Torniamo alla nostra tradizionale postazione con 4 prodotti in offerta per voi. Il primo è un amaro aromatizzato alla menta piperica. Branca menta, il liquore simbolo dei fratelli Branca proposto a voi nella bottiglia da litro al prezzo di 12,70€. Ed ora un prodotto tutto italiano, simbolo delle grappe di alta qualità. Grappa Alex dell'Alexander, una grappa giovane, bianca e cristallina dal sapore fresco e morbido. Ve la presentiamo al costo di 9,52€. Ed è finita l'estate. Per aprire le porte alla nuova stagione andiamo con una vodka russa a tripla distillazione, la gelata vodka Polaris da litro. Dai monti Urali a voi al costo di 5,79€ la bottiglia. Chiudiamo il quartetto con uno sfumante d'eccezione, Bella Vista Alma Cuvée Brut. Uno sfumante secco, raffinato, ottenuto da una selezione di 60 vendemmie diverse. Ve lo proponiamo al prezzo di 16,79€. Ed ora un gradito ritorno, whisky storico e conosciutissimo, simbolo della vita notturna e del rock. Whisky Jack Daniels Black, il leggendario Tennessee Whisky proposto a voi nel formato da litro al prezzo di 16,84€. E con l'acquisto di 6 bottiglie, questi ottimi bicchieri graniti PET in policarbonato. E chiudiamo questa settimana stavolta con una birra, la nostra Corona Light Lager messicana, che ci accompagna tutto l'anno con il suo gusto e la sua freschezza. Portatevi a casa un cartone da 24 bottiglie CL Tentra 3 al prezzo di 23,90€. Ed anche per questa settimana abbiamo concluso con le offerte di bevingrosso.it. Vi consiglio di andare sul sito, ad iscrivervi ed ad ordinare per non perdere nessuno. Un saluto ed alla prossima settimana con le nuove straordinarie offerte di bevingrosso.it. Buone bevute! Grazie a tutti!